La prima edizione del concorso internazionale Rudolf Nureyev si terrà a Rimini al Teatro Galli dal 7 all'11 agosto. Sono un'ottantina le giovani promesse della danza mondiale selezionate per l'occasione. Dalla Sud Corea alla Russia ha superato la selezione anche una ballerina riminese. Si tratta di un master che coinvolge sei scuole di danza del territorio con dei coach che hanno lavorato con il più grande ballerino di tutti i tempi. Questo ci dà l'idea di un teatro che sta assumendo le caratteristiche, l'immagine di un teatro da capitale, da grande città europea. Per l'occasione verranno utilizzate le coreografie originali di Nureyev e i brani registrati a Parigi mentre lui ballava. Il Galli diventa così il primo teatro al mondo ad ottenere dall'opera l'autorizzazione all'utilizzo di questo prezioso materiale. Ci sono soltanto tre accademie di danza in Italia, da Rimini potrebbe arrivare l'ispirazione per una nuova. Sì, perché no? Abbiamo un patrimonio artistico che ci viene affidato come quello di Nureyev, è l'unica città al mondo che gode di questa fiducia, perché non potrebbe. Per l'edizione 2020 sono già arrivate 300 candidature. La missione del concorso è quella di aiutare i giovani, come era nelle intenzioni della fondazione creata da Nureyev prima della sua morte prematura.